L'hanno portata in una vecchia baracca, non lontano da qui. Te lo giuro, è lì dentro! Sistemerò tutto, Zoi. Sei la mia famiglia. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le mie mani. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto con le gambe, vi faccio a pezzi con le gambe. Ho distrutto 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 con le gambe. Ma che... Cristo Santissimo. Cristo Santissimo. Cristo Santissimo. Cristo Santissimo. Cristo Santissimo. Cristo Santissimo. Devo portare Zoe fuori di qui. Che cazzo sta succedendo? Io sapevo. Sembra uno di quei film dell'orrore. Ok, va tutto bene, Zoe. Giornata del cazzo. Il soldatino ha detto che le medicine sono in una specie di base. Strano, non ricordavo ci fosse un muro. Ci sono delle luci da un'altra parte. Ci sono delle luci da una parte. Tranquilla, Zoe. Manca ancora poco. Un'altra parte. Un'altra parte. Aspetta qui. torno con qualcosa che ti farà stare meglio. è un'altra parte. è un'altra parte. 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 è un'altra parte. Caricamento. Carica completata. Caricamento! Ti conviene non avvicinare 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 avanti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... puoi fare a tutti. a tutti. prendi a tutti. hai... sto arrivando. a tutti. e... 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 a... e... 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 ecco la medicina. e... 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 ... e... 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 e...